Vittorio Brumotti testimoniano del nuovo spot del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le riprese prenderanno il via questa mattina. Il campione di bike trial ed inviato di strisce alla notizia, in sella alla sua inseparabile bici ed accompagnato dal presidente del Parco Tommaso Pellegrino, visiterà le bellezze della seconda aria protetta più grande d'Europa. Un tour nel Cilento per raccontare in modo originale e spontaneo l'immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale del Parco, con particolare attenzione ai territori meno conosciuti, ma non per questo meno straordinari. Dal Golfo di Policastro al Bussento, dal Vallo di Diano agli Alburni, dalla Valle del Calore al Cilento. Il biker incontrerà sulla sua strada monumenti, cattedrali, oasi, castelli, borghi, aree marine e palazzi storici. Siamo orgogliosi di poter affidare ad un testimonial di grande valore, come Vittorio Brumotti, la promozione del nostro Parco attraverso uno spot, ha dichiarato il presidente Tommaso Pellegrino. Brumotti rappresenta il testimonial ideale, amante della natura, dello sport e sempre pronto a scendere in campo in difesa dell'ambiente. In attesa della realizzazione dello spot, sarà possibile seguire in diretta il viaggio dell'inviato del TG satirico di Canale 5 attraverso i suoi account ufficiali Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, sui quali Brumotti caricherà anche foto e video per raccontare le tappe e i momenti più salienti. La campagna di comunicazione realizzata dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.